Vertice d'emergenza alla prefettura di Isernia per risolvere il problema della chiusura del viadotto Sente che di fatto ha isolato tutti i comuni dell'Alto Vastese in provincia di Chieti impossibilitati a raggiungere ospedale scuole di Agnone. In sostanza qualche migliaio di persone rimaste tagliate fuori dal mondo. Cosa fare? Se ne è parlato in prefettura Isernia in una riunione allargata ai sindaci delle province di Chieti e Isernia, ai due prefetti e ai due presidenti, insomma quasi un'assemblea plenaria per trovare una via d'uscita. Ascoltiamo Felice Magnacca, sindaco di Castiglione Messermarino, Filippo Stampone, sindaco di Fraine e Lorenzo Marco Vecchio, sindaco di Agnone. Stiamo attraversando una situazione molto difficile per la viabilità provinciale. La chiusura del Ponte Sente per noi rappresenta una grave perdita per la comunità, non solo per Castiglione ma anche con Agnone perché Agnone oggi è il punto più di ritrovo per tutti i castiglionesi. Oltre che le attività commerciali ci sono vari servizi tra i quali l'ospedale e l'istruzione secondaria superiore dove molti ragazzi di Castiglione frequentano. Oggi è impossibile fare un percorso alternativo perché richiederebbe circa un'ora e dieci di viaggio. Quindi noi chiediamo, facciamo appello oggi soprattutto a questo tavolo affinché si trovino le risorse necessarie per garantire un passaggio regolare sulla ex statale 86. Purtroppo con la nuova chiusura del Ponte Sente i nostri problemi sono aumentati a dismisura perché già avevamo dei problemi con il collegamento sulla SP 162 tra Fraine e Castiglione e già era problematico prima arrivare ad Agnone. Adesso con la nuova chiusura che è stata prevista per il Ponte Sente ci complica ancora di più la strada per arrivare ad Agnone perché se prima con 20-30 minuti arriviamo a Agnone adesso i tempi sono limitati e arriviamo a 40-45 minuti. Per noi lo stiamo vivendo quotidianamente rappresenta un'opera di livello strategico assolutamente importante anche per quanto riguarda l'economia dei vari centri non solo di Agnone ma di Castiglione, di Schiavi, di Fraine e di tutti quei comuni con i quali abbiamo costituito un tavolo unico permanente con il comune di Agnone Capofila per cercare di risolvere un pochettino quelle che sono le emergenze. In quest'ottica la riunione di oggi è anche finalizzata a consentire un pochettino il transito sulla ex SS86, oggi divenuta provinciale, a quegli autobus magari un pochettino più piccoli, parliamo di un peso sulle 7 tonnellate e mezzo che consentirebbe così ai pendolari che vengono dal fronte, dal versante abruzzese di poter raggiungere il centro di Agnone senza effettuare un vero e proprio viaggio della speranza passando come attualmente è da Schiavi poi riscendendo per le varie frazioni prendendo la Fondovalle, un viaggio che dura un'ora e quaranta ed è improponibile per tutti.